Ciao Riders, come state oggi? Spero bene! Allora, oggi un piccolo video per una segnalazione di un libro che mi è piaciuto moltissimo. Un libro dell'autore Vincenzo Di Vivo, che ha scritto una serie di aforismi davvero intelligenti, simpatici, delicati e profondi. Ma non un libro qualunque, secondo me. Intanto vi faccio vedere la copertina che è questa. Non un libro qualunque, come dicevo, ma un libro che ti fa veramente riflettere, perché ti fa entrare in un gioco molto potente, ovvero possiamo applicare questi aforismi nella vita di tutti i giorni? Possiamo leggere queste piccole frasi e capire come applicarle nella nostra quotidianità? Si può fare? È più facile scrivere gli aforismi o è più facile applicarli? È questo che mi sono chiesta alla fine del libro, che è veramente carinissimo, pieno di illustrazioni fatte direttamente dall'autore, che ci fanno capire la profondità dell'argomento trattato e anche l'attenzione che ha messo per poterci donare qualcosa di se stesse, qualcosa di cui parlare, di cui riflettere, su cui potersi migliorare. Quindi questo bellissimo libricino che vi faccio rivedere, è un libro che dovete assolutamente avere nella libreria, anzi è un libricino che dovete avere sul comodino, come sto facendo io, averlo vicino per poterlo leggere ogni tanto, per poterci o per potersi fermare a riflettere. Perciò se avete idea di fare un regalo, se avete bisogno di qualcosa che vi scuota in qualche modo senza essere troppo pesante, ma leggerendomi la vita con spensieratezza e sempre con una grandissima dose di riflessione, questo qui è il libro adatto. Perciò ringrazio moltissimo Vincenzo per avermi dato la possibilità di parlare di se stesso, di lui stesso, di questo libro, di avermi fatto confrontare con qualcosa di nuovo, ma sempre molto profondo e introspettivo, proprio come mi piace a me. Perciò grazie, l'ultima atto alla copertina. Carina, tutto fatto dall'autore. Grazie mille e un breve video appunto, ma un libro di grande significato. Grazie readers.